Pasquale Maione, bene il primo tempo, ha stretto contatto con il Bolzano, insomma che è una delle squadre forti e quotate di questo campionato, poi nel secondo tempo la gara è scivolata un po' via diciamo. Ma sì, questa è la nostra pecca forse di tutta la stagione. Iniziamo abbastanza bene, nel primo tempo riusciamo a rimanere in partita, poi nel secondo ci sgretoliamo un po', ci disuniamo un po', esce fuori l'esperienza della squadra avversaria e molliamo un po' la presa e il divario si allarga. Forse oggi un passettino indietro rispetto alla partita con Sassari l'abbiamo fatto perché soprattutto in difesa i meccanismi collaudati sono venuti a meno. Stai sperimentando anche nuove soluzioni, soprattutto in fase di tiro, ha molto gioco con i pivot di turno in campo, un De Angelis visto anche a terzino, insomma quindi anche soluzioni nuove per questo gruppo. Ma guarda, siamo un po' contati perché oggi avevamo battaglia di donne infortunati, quindi siamo costretti a sperimentare un po', però sono contento perché poi saper giocare a pala a mano vuol dire anche questo, vuol dire muoversi in tutte le posizioni, vuol dire quando c'è bisogno adattarsi alla situazione della partita che succedono in partita. Sporci ci arrivano i primi due punti del 2023, insomma avete dovuto attendere tre partiti di campionato, una di Coppa Italia, però alla fine insomma sono arrivati. Sì, noi avevamo l'ultimo periodo un po' difficile diciamo, siamo arrivati dalle tre sconfitte in casa contro Carpi e altre due contro Conversano che è una squadra fortissima. Sono contento oggi perché abbiamo vinto e speriamo di adesso prendere la strada giusta e prendere più punti possibili, però peccato perché eravamo da un punto a playoff dopo il girone di andata, le prime due giornate di ritorno e poi con queste sconfitte sicuramente siamo scesi tanto. Gara insomma che soprattutto nel primo tempo è stata sempre avanti Bolzano, però più con a stretto contatto il campus, non riuscivate a superare quella linea immaginaria dei quattro gol di vantaggio, si arriva a più quattro, poi c'era il contro break del campus che riusciva a rimettersi sotto, poi nel secondo tempo sono andate molto meglio le cose. Sì, campus, devo fare complimenti ai ragazzi e allo staff qua perché si vede che la squadra cresce, loro hanno un po' problema in difesa perché i ragazzi sono ancora fisicamente un po' indietro a altri ragazzi di Serie A, però stanno sviluppando un bellissimo gioco, gioco veloce, gioco moderno e ci sono alcuni giocatori che veramente saranno in futuro grande forza dell'Italia. Ci credete ancora nei playoff? Ma ci crediamo fino alla fine, i ragazzi lottano, io non posso dire anche le partite che abbiamo perso, i ragazzi hanno lottato, hanno messo a cuore, però non è andato. Oggi il risultato è buono, siamo tornati a fare il nostro gioco e sabato già abbiamo un'altra partita difficile contro Pressano in casa. Rossignori, arriva finalmente la prima vittoria il 2023, ci avete messo un po' di tempo, però insomma è arrivata la fine. Sì, finalmente sì, abbiamo lavorato soprattutto l'ultima settimana bene, ci sono tante partite state l'ultima due settimane e finalmente è arrivata la prima vittoria. Qual è stata la partita tra quelle che avete perso in avvio di questo campionato, che poi ne sono quattro considerando anche la Coppa Italia, hanno giocata a Rimini, che ha pensato un po' di più, che però ha dato anche un po' la scossa per cercare di tornare subito alla vittoria oggi? È difficile dirlo, ma sicuramente quella l'ultima Siracusa ha fatto male, perché quella dovevamo vincere, sicuramente andare a Coppa con questa squadra, potevamo sicuramente fare meglio, ma è sempre difficile anche arrivare fino alla fine. Dello Vicario alla fine ha vinto Bolzano, insomma una squadra sicuramente costruita per ben figurare in questo campionato, però soprattutto nel primo tempo siete riusciti a non sfigurare, insomma a tenere il passo di una squadra molto forte. Sì, il nostro punto di forza appunto è la corsa e abbiamo cercato fin dall'inizio di spingere al massimo, poi sempre per delle cose stupide abbiamo perso vantaggio, però comunque ce la siamo giocata per tutto il primo tempo alla fine. Una squadra che gioca sempre più con il pivote, questo insomma ti fa sicuramente piacere, visto che il tuo ruolo, insomma ricevi tanti palloni giocabili. Sì, quello sicuramente. All'inizio era un po' più difficile, soprattutto nelle partite, perché nelle altre squadre c'erano comunque persone molto più esperte, con molti più chili di noi, e adesso stiamo cercando di trovare il ritmo e la sintonia con gli altri per prendere più palloni. Senti, ma veniamo anche al prossimo turno, insomma perché non c'è tempo per riposarsi, perché praticamente sabato lunga trasferta in alto adice, questa volta contro il Merano, che insomma soprattutto per come sta andando in questo meeting campionato è anche più quotato di questo Bosene, che già era una signora squadra. Sì, adesso una bella trasferta a Merano e cercheremo sempre di dare il massimo e vedremo come andrà.